Cari telespettatori, buon pomeriggio dalla redazione di Conviti V. Come sapete, oggi andiamo in onda in forma ridotta, anzi ridottissima. Ci sarà soltanto l'estrazione delle palline di We Love Foggia. Ricordiamo che questa dovrebbe essere l'ultima estrazione dell'anno, anche perché quella di domani, quindi di sabato, Foggia Martina, è l'ultima gara di campionato, l'ultima gara allo zaccheria della regular season e i play-off non sono gestiti direttamente dal Foggia Calcio, ma sono gestiti dalla Lega Pro. Quindi siccome non sappiamo ancora nulla, e diciamo anche per una questione di scaramanzia non parliamo dei play-off, questa ufficialmente dovrebbe essere l'ultima estrazione dei biglietti per We Love Foggia. Oggi hanno aderito a We Love Foggia 64 clienti Conviti, che facciamo ovviamente vedere. Eccoli qua, ci sono sempre i grandi nomi. Vediamo se anche in quest'ultima estrazione i grandi nomi, quelli che hanno più fortuna, riusciranno a spuntarla e vincere un biglietto di Tribuna Centrale per la gara Foggia-Martina Franca. Il derby, un altro dei derby di Puglia, ovviamente 64 persone, vi faccio vedere le 64 palline, ecco qua, le prime 30 sono qua, le seconde 30 sono qua, eccoli qui, e poi le ultime 4, eccole qua, per arrivare a 64. Le inseriamo nell'urna, lo so che vi manca Federica, lo so, lo so, lo so, vi dovete accontentare di me, che non sono bello come Federica, ma tant'è, tant'è. Ecco l'urna vuota, inseriamo le palline, ecco qua, ricordiamo che questa edizione di We Love Foggia, questa estrazione verrà anche pubblicata sulla nostra pagina Facebook Convi TV, ecco qui. Allora, tre estrazioni, vi devo fare il budubum? Ve lo faccio. Budubum, budubum e budubum, ecco qui, 55, 55 che corrisponde a Daniela Vaschetti, e io lo sapevo, eh, lo sapevo che ci doveva essere una delle fortunate, Daniela Vaschetti, hai vinto un biglietto per Foggia Martina Franca, ancora, vediamo, budubum, 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 33, gli anni di Cristo, avrebbe detto Mike Buongiorno, 33, Alfredo Ricciardi, Alfredo Ricciardi, anche tu hai vinto un biglietto per Foggia Martina, ultima estrazione dell'anno, a chi andrà l'ultimo biglietto di Foggia Martina? Budubum, 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 il numero 2, il numero 2, Lucia Manzi, Lucia Manzi, bene, Lucia Manzi, il numero 33 abbiamo detto Alfredo Ricciardi, il numero 55 Daniela Vaschetti, avete vinto un biglietto per Foggia Martina Franca di domani, quindi di sabato, noi con Casa Convi ci vediamo ovviamente lunedì, oggi era prevista la puntata dei telespettatori, e la puntata dei telespettatori andrà in onda comunque lunedì, ci auguriamo che presto si risolvano questi problemi tecnici, diamo ancora una volta la linea al telegiornale.